Non è nuovo ad esperienze del genere Don Daniele Suardo, parroco di Povegliano veronese, che in America Latina, nel nord-est brasiliano, ha un pezzo di cuore, avendovi dedicato 11 anni della sua vita. Ma quello che lo aspetta è un luogo decisamente diverso, Cuba, e in un momento molto difficile per il paese del Centro America. In questi giorni purtroppo ci vengono notizie anche di proteste sociali in piazza e così via. Del resto è comprensibile perché anche noi abbiamo sentito il contraccolpo economico e sociale del Covid. Cuba, come tutti i paesi del mondo, sta attraversando una difficoltà dovuta alla presenza del Covid e con in questi giorni anche un aumento dei contagi. E purtroppo la chiusura del turismo, praticamente, che era una delle fonti principali dell'economia cubana e anche dell'embargo che Trump aveva fatto ulteriore rispetto a Cuba, sta mettendo davvero alle corde la situazione del popolo cubano. Dopo gli anni passati in parrocchia e l'età, che non è più quella di un ragazzino, non si nasconde le difficoltà del nuovo incarico, Don Daniele, soprattutto perché legate ad un contesto sociale e culturale cambiato molto, anche nel nostro paese. Probabilmente c'è un pochino un guardarsi dentro. Cioè la missione, come era intesa fino a qualche decennio fa, era una missione che era aperta al mondo, alle culture, ai continenti. C'era uno slancio anche missionario un po' di tutta la società civile. Quando si parlava di missione ci si sentiva anche orgogliosi di mandare qualche compaesano, qualche sacerdote religioso, laico in missione. Adesso anche dalla mia gente si dice, ma la missione è anche qui, rimane qui, c'è più necessità qui che altrove. Ci si dimentica un pochino che il mondo non inizia e non finisce con noi. Cosa le hanno detto a Povegliano? Beh, insomma, gli amici ovviamente sono dispiaciuti perché vado, dall'altro c'è anche qualcuno che è contento perché vedono in me una realizzazione di un sogno. Veramente non erano i miei sogni, nel senso che avevo già espresso la mia volontà di andare in missione. C'ero andato in Brasile quasi 12 anni e così via. Come dico a tanti, ecco, la mia fatica attuale è che allora avevo 30 anni e la testa era piuttosto così, insomma, maturlana. Il desiderio, lo slancio era di un prete ancora molto giovane, insomma, che aveva voglia di sperimentare anche questa dimensione che comunque avevo maturato durante il seminario, fino anche dalla mia tenera età e che avevo espresso anche una domanda alle sacerdozze. Dopo i 50 anni, ecco, non avevo proprio così messa ancora in prim'ordine, ecco, per cui la scelta di dire di sì al Vescovo è stata un pochino più faticosa, insomma, non è che sia dispiaciuto, però non era quell'entusiasmo un po' incosciente, ecco, di quando avevo 20 anni in meno di adesso, insomma, ecco. Grazie. 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 Grazie.